La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Uno TV. Andiamo a guardare insieme le principali notizie di oggi. Partiamo dal mattino. Sangue su Brexit. Questa è l'apertura. Uccisa deputata. Sospesa alla campagna elettorale per il referendum, Cameron una tragedia ha fermato il presunto assassino. La burista impegnata per il no, colpita da un uomo che gridava prima alla Gran Bretagna. L'indiziato. Tommy disoccupato e solitario con simpatie di estrema destra. L'analisi una scossa per indecisi e filo europei. Gli articoli di spalla. Martello Conte, attaccheremo con il fuoco dentro. E le idee. Perché la seconda sfida è sempre stata decisiva. Centro pagina. Il ballottaggio di Napoli, comizie e le feste di chiusura con due bagni di folla. De magistris, lettieri, promesse e veleni in piazza. Nelle urne per i comuni c'è anche il futuro dei partiti. Di taglio basso, lettera a Francesca, mirado a zero, ormai sono un forzato. Le parole di Enzo Tortora e il colloquio. La regista Comencini, pubblico e storia interagiscono. Gomorra si vive come una sceneggiata. Questa è la prima pagina del mattino. Andiamo a guardare le notizie in primo piano. Orrore sulla Brexit. Uccisa una deputata laburista e il killer. Prima la Gran Bretagna. Ha fermato l'uomo, la parlamentare convinta sostenitrice dell'Unione Europea. L'agguato è successo a Leeds. In Gran Bretagna, Joanne Cox, 41 anni, è stata accoltellata dopo tre colpi alla testa. La paura piomba sulla campagna referendaria. La vittima si era battuta per minori e rifugiati. Il sicario, il racconto dei vicini, era schivo, conduceva una vita da lupo solitario. E il dolore, il marito della politica, lei sognava un mondo migliore avanti con le sue battaglie. Ancora Brexit, quindi. L'assassino dalla madre prima del delitto. Tommy ha simpatie per l'estrema destra e un passato di fragilità psicologica. Il fratello sotto shock non è mai stato lasciato solo, stento a credere che abbia potuto fare questo. Giallo sulla pistola utilizzata per l'agguato, secondo testimoni, sarebbe stata fatta in casa. E la forte emozione peserà sulle urne. La corsa del no destinata a rallentare. Ancora Brexit, l'allarme BCE, Fondo Monetario Internazionale, crescita a rischio. Tutte le istituzioni finanziarie contro gli euroscettici. Mercati ancora deboli, Milano cede l'1%. Lo scontro preoccupati i ministri economici, ma Juncker, l'Unione Europea, non è in pericolo di vita. Padoan invece è cauto, siamo in un'economia globale. È inevitabile che anche l'Italia avrà dei problemi. E poi l'allarme incendi in Sicilia. Roghi e Scirocco, Sicilia devastate in fuga dalle case. Evacuate le scuole, 50 bambini intossicati dal fumo in un asilo e caccia ai piromani. Trenni fermi, interrotte le principali ferrovie dell'isola, il capoluogo è rimasto isolato. Il dossier Parchi, le mani della mafia, si indaga per incendio doloso, le mire degli speculatori, crocetta, strane coincidenze. L'economia. Renzi vede Putin, via al disgelo, Unione Europea, Russia. Oggi l'incontro a San Pietroburgo, anche Juncker in campo. Costruire ponti, basta muri. Quindi in nome della crescita e per tentare di stemperare i contraccolpi della possibile uscita della Gran Bretagna, l'Europa tenta il disgelo con la Russia. Il nodo, quindi, le priorità per l'Unione, resta il caso dell'Ucraina, già firmati accordi con Roma. E le pensioni, uscite anticipate, niente sodati. Il governo lavora sulla platea dei possibili beneficiari. La classe del 53 è quella più interessata. Il mattino di Salerno. Porta Ovest di sequestro bis. Questa è l'apertura. Il giudice riapre il cantiere, ma servono controlli costanti sugli scavi. Gli articoli di fondo. Il forfetti di De Luca non va a battipaglia. Motta, gliel'ho consigliato io. Lo scenario, il governatore e il risico sindaci. L'obiettivo è andare oltre il PD. Centro pagina. Disabile, drogato, si schianta. Muore l'amico. Il processo, delitto Petrone e la difesa di D'Andrea non sono stato io. La polemica. Eboli, tensioni nella maggioranza. E di taglio basso, summit per Inzaghi Junior. La Salernitana decide lunedì. Eboli. Cariello, lite nella maggioranza, nonostante la diffida della prefettura, è stata disertata alla commissione bilancio. A un anno dall'elezione lo scenario è più teso. De Caro, nuovo assessore. Battipaglia strappa il colirano a una donna preso. Aggredisce la 63enne alla fermata del bus. Inseguito è arrestato. Ponte Cagnano, attacqua Sica, litoranea nell'abbandono. Contursi. Sventrano un bar e svuotano le slot. Bottino di 18 mila euro. Passiamo al Cilento e Vallo di Diano. Monte Corice, punta Capitiello. La spiaggia rischia di sparire. L'allarme dopo il crollo di un muro di un'abitazione privata. E Rocca Gloriosa, furto alla stazione di servizio, scovati grazie al telefonino. Queste le pagine del mattino. Passiamo a Metropolis. Assedio alla Salerno della Droga. Apre così Metropolis. Raffaele Marmo, romano, scusate, sorpreso, con 330 grammi tra cocaina, eroina e crack. Ennesimo blitz antispaccio dopo l'operazione DJ per la quale si è costituito Matteo Vitale. Di taglio alto, D'Andrea affronta il pentito, omicidio Petrone, Villacaro rinviato a giudizio e ritenuto il mandante del delitto. Vincenzo Poeta chiede lo sconto di pene e vuole contraddire l'accusatore De Simone. Centro pagina. Salerno, porta ovest, fine dell'incubo, tolti sigilli al Max Cantiere. Ancora Salerno, paura in centro, brucia volante e raid bandalico, case in fiamme. Cava, San Severino, cantone chiude i reparti di ginecologia e la guerra dell'ospedale. Salerno, il centrodestra torna a litigare per i De Luca. Battipagli, big del PD con motta, SOS francese. Eboli, Vito De Caro è l'assessore alla sicurezza. Ballo, schianto fatale, muore, 27enne. E gli europei, 2016, Italia in campo con la Svezia, avanti, azzurri. Questa è la prima pagina. In primo piano, truffa milionaria all'Inps, in quattro già alla sbarra. Succede a Nocera. E il caso Salerno. Marcavano e poi andavano in spiaggia, 14 imputati per lo scandalo al Ruggi. In Campania. Opere pubbliche, lumaca. La corruzione è un cancro. Migliaia di indagini in Italia spicca Napoli con oltre 6.000 casi. Segue Roma con oltre 5.000 e Milano è terza a quota 4.000. Nell'ambito della pubblica amministrazione, un appalto su due potrebbe essere corrotto. A dirlo Emanuele Fiscaro, presidente del Centro Studio Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione. Durante il convegno, il contrasto alla corruzione e al riciclaggio di denaro tra repressione e prevenzione. Battipaglia. I big del PD votano motta. Francese scrive al prefetto. De Luca assente, democrat in piazza con l'imprenditore, l'avversaria. I seggi vanno blindati. Ancora Battipaglia, donna scippata della collana nei guai 42enne. Mercato San Severino. Romano alle prese con il bilancio. Corsa contro il tempo per l'approvazione. Nei dubbi sul parere favorevole dei revisori dei conti. Battipaglia. Commercio. Sorvillo eletto neopresidente. Ponte Cagnano. Ente a caccia di un progettista per il nuovo piano urbanistico comunale. Baronissi. Spunto un sostituto per Siniscalco. Vallo della Lucania. Schianto fatale sulla strada statale 18. Giovane muore sul colpo. Auto esce di strada e si dibalta. Addio al 27enne Pasquale D'Angiolillo. Grave un amico. Cilento. Arrivano i bus per i turisti dal nord Italia. Eboli. De Caro. Erede di Daniello. Nominato il neossessore. Prospettiva moderata verso l'appoggio esterno. Sapri. Nascondeva a droga market preso 21enne. Buccino. Travolto dal trattore e oggi funerali il campo in cui lavorava non era suo. E infine Eboli. Bus e cultura con jazz e wine. Queste le pagine di Metropolis. Guardiamo le cronache. Omicidio Petrone. D'Andrea pronto a buotare il sacco. Sarà processato insieme a Ciro. Villacaro. Considerato il mandante del delitto che avvenne ad Antessano. Il presunto killer incastrato dal pentito. De Simone farà delle dichiarazioni al giudice. Porta Ovest. Ex Marzotto. Ora decide un giudice. L'Inps rivuole i soldi che aveva già elargito. Due pensionati fanno causa per difendersi. Soprendendenza. Via Parmenide. Guai per il costruttore. Revocato il permesso. Salerno. Matteo Vitale si consegna alla finanza. Battipaglia. Sedotto e abbandonato. De Luca ignora Motta. Il governatore non si presenta all'appuntamento. Il candidato invoca motivi di ordine pubblico. Quindi secondo Motta il neoguestore non garantisce la sicurezza. E anche la Naro ha disertato. Vallo della Lucania. Incidente stradale. Muore. 27enne di Ascea. Due feriti. Torre annunziata. Usura. Immobile. Condannato a 5 anni. San Marzano. Il piano urbanistico comunale familiare. Ecco i nomi dei beneficiari. E Scafati. Aliberti si salva col voto di Raviotta. Questa è la prima pagina. Passiamo a Battipaglia. L'architetto Massimo Sorvillo. Eletto presidente della Confcommercio. Nominato anche il consiglio direttivo del Sodalizio. I progetti per il rilancio del comparto. Amministrative. De Luca, Beffa Motta. Niente comizio. E stasera i due sfidanti chiuderanno la campagna elettorale. Con un comizio in contemporanea in due piazze diverse. Anche la Naro diserta l'appuntamento. Il candidato sindaco prova a rimediare. Consigliato di non venire per motivi di ordine pubblico. Continuiamo con Battipaglia. Ugo Tozzi e Cecilia Francese chiamano il prefetto di Salerno al ballottaggio più controlli della polizia davanti ai seggi. Ponte Cagnano. Piano urbanistico comunale tutto ok. Bellizio, un'area verde nell'ex consorzio agrario. La replica del sindaco Volpe. Battipaglia. In manette Salvatore Anastasio preso subito dopo lo scippo in pieno centro. Eboli, De Caro, neoassessore comunale al funzionario del Ministero dell'Interno, le deleghe a sicurezza, legalità, viabilità, mobilità, decoro urbano e amministrazione digitale. Il primo cittadino di Eboli, Massimo Cariello, ha scelto ieri sera il successore del dimissionario Armando Daniello. Ballo, Emanuele Maiese, il calciatore 22enne della Gelbison, dimesso ieri e fuori pericolo. Eboli, cultura ed enogastronomia sono il segreto del nuovo turismo. L'appuntamento con Jets & Wine punta a richiamare presenze e attenzione ad Eboli. Rofrano, chiede sicurezza, la ditta licenze e il sindacalista, quarto provvedimento nei confronti del rappresentante UGL. E ancora Eboli, rompe sigille e non paga la bolletta, 35 anni e denunciato per furto di gas. E scuola Matteo Ripa, il musical per educare la cittadinanza. Vallo della Lucania, sangue e morte sulle strade del Cilento, Agropoli, il veliero Tortuga pronto a viaggiare da sabato lungo la costa cilentana. L'inaugurazione in programma per domani mattina alle ore 11 all'interno del porto di Agropoli. Buon abitacolo, antenne telefoniche e ora il Comune annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Ci sarebbe già una delibera di giunta a firma del commissario prefettizio Raffaela De Asmundis. Rocca Gloriosa, market dello spaccio in casa, arrestato 21enne. Queste erano le pagine di Le Cronache con cui si chiude la prima parte della nostra rassegna stampa. Diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio, proseguiamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa, sfogliando le pagine della città. C'è aria di scontro, De Luca si defila, battipaglia, niente passeggiata con motta, troppi rischi di contestazioni, questa è l'apertura. Di taglio alto, l'Italia vuole stupire ancora, ore 15, azzurri contro la Svezia, la vittoria vale la certezza degli ottavi. Il mercato di B, la Salernitana ha preso l'attaccante Caccavallo. Centropagina, chiesto il processo per i primi 14 assenteisti. Ma il lavoro dei magistrati è solo all'inizio. La fame di lavoro, infermieri e operatori sociosanitari e per le assunzioni trimestrali arrivano oltre 5.000 domande. Porta Ovest si riparte, il giudice sblocca il cantiere, niente pericolo di crolli. Gli articoli di spalla, cronache, le ex carceri, il comune non ci pensa. E la sentenza schiaffi e pasti negati due anni e mezzo per una babysitter. Questa la prima pagina. Dopo il voto a Salerno, nel centrodestra si litiga, riaffiorano vecchi rancori. I dirigenti di Fratelli d'Italia attaccano Celano. La replica hanno cambiato idea. Ora Cuozzo difende Gambino sui familiari del presidente della regione a ragione. Hanno il diritto di fare politica. Di taglio basso, il consiglio comunale, presidenza in bilico per Ferrara, non piace la sua fuga in avanti. I ballottaggi nelle grandi città. D'Alema e il referendum nel PD tregua sino al voto. Renzi celebra il Noi Mudei. Ora si pagano meno tasse. Contestato Orfini, direzione il 27 giugno. Attesa per oggi la lista dei nomi dell'Aggiunta Raggi. Scontro dei magistri slettieri. Napoli, quindi. Una sfida al veleno. Caccia ai consensi. PD e Movimento 5 Stelle. Le banche, Popolare Vicenza, azionista si uccide. Il pensionato aveva perso quasi mezzo milione di euro, ma era anche molto malato. In una lettera, non ce la faccio più. E le pensioni, l'Unione Europea, frenare i ritiri anticipati. I sindacati chiedono modifiche. Attualità. L'Isis pronta a colpire in Occidente. L'allarme del direttore della CIA, il procuratore Roberti. L'Italia rischia, ma non ci sono segnali specifici. E intanto l'aereo dell'Egipter recuperata la scatola nera. Pubblica amministrazione. Ora il governo punta ai furbetti delle malattie. Nel mirino della prossima stretta, i certificati medici falsi e i permessi mendaci. Il sottosegretario Rughetti basta scioperi e assenze quando c'è la partita. Passiamo al nostro territorio. Auto finisce contro il palo. Muore 27enne a valo della Lucania. Pasquale una vita per il rock. Un batterista tra gli angeli. Amici e parenti in lacrime. Il papà vigile resta in divisa. Di taglio basso. Rocca gloriosa. Nascondeva la droga in casa. Arrestato un'insospettabile. Pollica. Incendio all'idola playa. Paura e bagnanti in fuga. E infine Monte San Giacomo accetta nomina la sua giunta. Una donna sarà vice sindaco. Queste le pagine della città. Passiamo alla nuova. Se va male l'ATP c'è l'Egrib. L'ufficiale è la lista degli aspiranti direttori del neonato superente. Molti amministratori, ex politici ed esponenti con la tessera PD. Acqua, turismo e rifiuti. Quasi la stessa cosa. E in dieci presentano domanda per guidare entrambi. Centropagina. Pollese Cifarelli. Prove di pace. Postata la foto della tregua tra anime e dem. Verso l'accordo in casa PD. Petrolio. Zona franca energetica. Nasce la Lega dei Cento Comuni Lucani per avere prezzi inferiori. Ancora centropagina. Noi scollegati e al nord si sperpera. L'esempio di tre opere con rapporto costi-benefici elevatissimi. Per completare la tratta ferroviaria Matera-Ferrandina basterebbero 200 milioni. Edilizia. Il rilancio possibile solo con le opere pubbliche. Si intravedono timidi segnali di ripresa arrestata l'emorragia degli anni scorsi. Sanità. Sanità futura. Pagate almeno le fatture della mobilità attiva 2011. E l'allarme degli avvocati Lucani. Tribunale di potenza al collasso. Di taglio basso. Matera. Tente suicidio alla stazione salvato da quattro agenti. E infine lo sport. Gli europei. Alle 15 Italia-Svezia. Chance da titolare per il bomber lucano. La Basilicata vuole Zaza in campo. Lega Pro. Il Matera è in pressing su Auteri. Il si tarda ad arrivare. Questa è la prima pagina di La Nuova con cui si chiude la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio di essere stati con noi. Vi auguro buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.